Stai qua, stai qua vicino a me. Eh, fai, fai. Tra l'influenza e queste immagini è chiaro che mi posso riprendere solo guardando Telese, un vero comunista, l'ultimo comunista, credo, in Europa, che io ho lanciato. Ricordo questa avventura così per stemperare, però è indubbio che rivedere... Era felice quella sera. Beh, lei era una poetessa, quindi il poter recitare gli ha dato una grande opportunità. Per la verità gliel'ho data anche io tante volte nei miei programmi, perché se no non sarei tornata a casa. E lì c'era il conflitto di interesse. L'avevo sentita così gioiosa quella volta di venire. Tu hai detto nel tuo libro, c'è un passaggio, lei se ne va via il 21 marzo. Tu eri lì e tu scrivere quella parola ha preferito andare via lei e salvare me, come se ti avesse dato due volte la vita. Perché hai avuto quella sensazione? Beh, molto semplicemente perché fino a qualche ora prima io ero grave. E quando uno è grave non ti dicono che sei grave, ti dicono che sei stabile, che vuol dire che non peggiori. Quindi io stavo male, però arrivavano i medici, che l'altro ringrazio, li ringrazierò sempre, tutti, ma anche gli infermieri, tutti. Insomma, mi dicevano, eh Chiamretti, lei è stabile, grazie. Perché è stabile, uno immagina benino. Avevi il casco? No, il casco io non l'ho voluto mettere perché soffrivo di claustrofobia. Però mi hanno messo tutta una serie di maschere che ovviamente non hanno esattamente la misura delle facce di tutti. Quindi o era troppo grande e quindi passava ossigeno, o era come quella che mi davano, molto stretta. Tant'è vero che tenendola 15 giorni mi si è quasi spaccato il naso per tenere questa maschera. Però io non miglioravo. Mia madre se ne va intorno, credo, alle 6 del pomeriggio, ma io ero convinto che fosse notte fonda. Qualche ora dopo, alle 4 del mattino, lo ricordo perché alle 4 del mattino passavano per farci il primo esame del sangue, che ci facevano in un'arteria. È un dolore tremendo, ma io mi ero fatto mettere una specie di tavernello e quindi io praticamente bastava aprire e usciva il sangue, perché altrimenti sarei morto già solo per quello, altro che per il Covid. Alle 4 del mattino si faceva il primo esame e poi c'era un altro intorno a mezzogiorno e un altro nel pomeriggio tardi. Fanno questo esame e mia madre era già stata portata via. Torna questa infermiera, Clara, che voglio salutare, e mi dice che ti guardi che lei sta bene. Cioè praticamente nel raggio di quelle poche ore che sono andate dalle 17.30, non so se era un martedì, alle 4 del mattino del mercoledì, io ero guarito. Dopodiché sono stato ovviamente in osservazione ancora una settimana, 10 giorni, mi hanno fatto i tamponi e mi hanno detto guardi, lei deve andare. Dico ma io sono solo in pigiama. Sì ma noi non possiamo darle un'ambulanza, lei si prende un taxi e va a casa. Io non avevo una lira in tasca, però non mi sono osato a chiederla a nessuno. Quindi sono uscito in pigiama e come in un film inglese, ho fermato un taxi in pigiama e in un lockdown totale, sono riuscito ad arrivare a casa e poi ho pagato il tassista andando a casa. Ed è stata un'esperienza pazzesca perché sono passato dalla morte alla vita in pigiama, così come ero entrato sono uscito con le mie gambe. Però in quell'ospedale ho lasciato mia madre. E lei, sei convinto, ti abbia dato... Io l'unica frase che ho sentito di mia madre, penso un quarto d'ora prima che morisse, è stata come è difficile morire. Perché credo che il dolore che lei ha provato, mi hanno detto che l'ossigeno che aveva nel sangue e che poi va al cervello e va ovunque, dovrebbe essere credo intorno ai 90-95 per star bene. Lei aveva 44. Quindi praticamente il Covid si è mangiato a tutti i polmoni. per quelle patologie che dicevamo. Però se non ci fosse stato il Covid i polmoni viaggiavano benissimo. E quindi è chiaro che a un certo punto penso che soffrisse talmente tanto che aveva chiesto lei di farla finita. E infatti questa infermiere anche lì c'è sempre il tragicomico in tutte le cose. Infatti anche il libro poi alla fine è un libro comico perché la morte è la continuazione della vita. E credo che si possa ridere anche della morte, anche per difenderci, perché è chiaro che abbiamo una grande paura. Quando io ero da solo nella mia stanza, mi avevano spostato diverse volte per lasciare letti ad altri, eccetera, questa infermiera viene da me, ma io totalmente rincretinito, e mi dice, guarda, il protocollo vorrebbe che all'una di questa notte staccassimo i motori. Però soffre talmente tanto che secondo me, Piero, sarebbe meglio staccare subito, sarebbe meglio. Io ho capito solo starebbe meglio. Ho detto, fatelo subito. Quindi io praticamente ho accelerato quella che sarebbe stata comunque la fine di 6, 7, 8 ore. E quindi quando per gentilezza l'hanno portata dentro la mia stanza, che era una stanza a quel momento di tre letti, ma quell'altro era appena andato da qualche altra parte, me la sono trovata lì a fianco. E io ho sentito che nel disastro generale, anche della confusione, ripeto, io ero convinto che fosse notte fonda, so che lei a un certo punto non riusciva più a deglutire, le davano delle palline di acqua, solo per la gola, credo che a un certo punto volesse veramente chiudere questo capitolo, che peraltro lei sentiva già qualche mese prima, perché era comunque una donna crepuscolare, una donna sofferente, poesie mai così allegre. Penso che a quel punto abbia deciso lei prima delle macchine, prima di me, prima del Covid, di abbandonare questo pianeta. E io mi sono trovato guarito e quindi nel libro, in quella parte dedicata a questo passaggio, dico, mi ha ridato la vita una seconda volta. Perché sono sicuro che se oggi posso dire com'era mia madre, mia madre sicuramente in una situazione del genere, avrebbe fatto come avrei fatto io per mia figlia, cioè preferisco morire io e lasciare... Lei aveva tra l'altro un rapporto...